ultime notizie dal tg com libano nonostante manchino meno di 24 ore alla tregua si combatte furiosamente nel sud del libano alcuni palazzi sono stati centrati nel pesante bombardamento aeronavali israeliano della tarda mattinata contro il quartiere di arra duffa alla periferia sud di beirut brescia continuano le ricerche di mohammed salem il padre della giovane pakistana trovata morta sgozzata fino a questo momento maggiore indiziato gli investigatori stanno vagliando l'ipotesi dell'omicidio predeterminato torino sette suore che si occupavano come volontari e dei detenuti rinchiusi nel carcere delle vallette si sono innamorati dei loro assistiti hanno lasciato il velo per sposarli per tre di loro il matrimonio è già fallito goteborg e stefano baldini ha vinto la medaglia d'oro nella maratona ai campionati europei di atletica in svezia l'azzurro già campione olimpico ad atene ha vinto precedendo lo svizzero victor rothlin questa era l'ultima notizia vi lasciamo alla seconda parte del film i capi colorati mi piacciono tantissimo io faccio sempre tutti insieme come la rulletta dice ok esce rosso invece esce nero faccio dei danni l'ultima è una camicia di mio marito guarda è venuta così oggi lavi tutti i colorati insieme con l'ipulite mix color versiamo del colorante e qui anche l'ipulite mix color con formula cattura colore la metà lavata con mix color mantiene il colore originale non c'è più il rischio che avevo prima insoltrezza puoi fare la lavatrice tranquilla non rischiare fidati di l'ipulite da oggi in esclusiva su media shopping una raccolta unica imperdibile 10 dvd dedicati al principe della risata antonio de curtis in arte totò interamente rimasterizzati in qualità digitale troverete totò peppino e la mala femmina la banda degli onesti totò truffa 62 totò le moco le motorizzate questa è la vita totò peppino e le fanatiche racconti romani le belle famiglie totò story il culto della comicità italiana grazie soprattutto al genio e alla bravura di totò oltre a rivivere le emozioni dei film una serie di contenuti speciali vi faranno scoprire il retroscena le curiosità e i segreti che hanno caratterizzato la vita di totò il prezzo è di soli 99 euro e 90 meno di 10 euro a dvd un cofanetto che potrete trovare in esclusiva solamente qui su media shopping 10 film in dvd che avrete comodamente a casa vostra con una semplice telefonata chiamate subito l'840 50 40 11 per passare imperdibili serate con il principe della risata totò profuma di agrumi o profuma di fiori? è velo slip fiori agrumi il nuovo protaggio in slip con un bouquet di note aggrumate e fiorite nuovo velo slip fiori agrumi la sensazione di indossare la natura mobile music box 150 ore di musica 300 minuti di video già inseriti i video di Jesse McCartney e Hilary Dahl musica per le orecchie video per gli occhi music box il piacere nella tua mano ho sviluppato una sensibilità superiore ho imparato ad adattarmi ad ogni necessità e a reagire all'istante sono la tecnologia sesto senso di Weirful Weirful sensing the difference dice stavo in vacanza dice che ci mangiamo dice il pesce dice che ci beviamo dice l'acqua dice quale normale dice c'è mai dormito tenta te hai sentito la rassura che ti viene dice ma tu c'è il prego bar io dico mo c'hai sete e lui dice va la seta adesso non riesco a parlare allora io dico sei brio blu e lui dice è rocchetta io dico è equilibrata a frissantezza e lui dice smonto la tenda e smonta sta tenda bravo brio blu mi piaci tu ispirati all'arte millenaria dell'I Ching conosci il futuro con le profezie di Nostradamus lasciati guidare dall'oracolo degli angeli le carte della divinazione le profezie e gli oracoli di tutti i tempi raccolti in preziosi mazzi di carte facili da interpretare magici da collezionare prima uscite in edicola a soli 2,90 euro con l'oracolo degli angeli consiglio numero 5 il gallo samurai quando zacketta a metà del tempo prepara Waka il doppio di ricette come? con blonde veloce e versatile riso sempre al dente in soli 8 e dico 8 minuti basta un pizzico di fantasia e prepari tutte le ricette che vuoi dai risotti alle insalate di riso tanti piatti ricchi di gusto e di benessere qualità gallo riso gallo blonde veloce e versatile chi chi ricchi di fantasia la diga è in pericolo la pressione sul retro della diga è enorme lei tutta quell'acqua sta spingendo contro la diga qualcuno aveva stravolto il suo progetto guardiamo te che vuoi fare? sta bene sacrificando la sicurezza alla dignità si sta riempiendo ancora perché? come sindaco non ho bisogno di consensi per dichiarare l'allarme di secondo grado più veloce papà per il ciclo alta tensione la diga della paura martedì alle 21 su canale 5 proteggila naturalmente con Sandokan Sandokan estate senza zanzare tempo previsto per lunedì è destinato gradualmente ad attenuarsi l'afflusso di aria fresca e instabile che da giorni interessa l'Italia e che domani si limiterà soprattutto alle regioni del nord pertanto al mattino ampie zone di sereno sul medio adriatico Lazio regioni del sud e isole cielo nuvoloso altrove con qualche rovescio sparso su alta Lombardia regioni di nord-est appennino emiliano e alta Toscana temperature minime in lieve ripresa al nord Toscana undi e marche in leggero calo al sud e in Sicilia nel corso del pomeriggio si svilupperanno alcuni temporali sulla Paldosso la gran parte della Lombardia regioni di nord-est appennino tosto emiliano e Toscana torna il sole sul resto del paese nonostante un po' di nudi su Liguria zona interna del centro Campania e nord Sardegna temperature massime di alto centro-sud televisione grafica est